Musica Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi Come sempre ben trovati all'appuntamento con Toscana Oggi Notizia importante, questa settimana in primo piano Notizia ormai risaputa, però il settimanale ovviamente tiene a ribadirla A darla con particolare evidenza Intendiamo la visita del Papa il 10 maggio a Nomadelfia e all'Oppiano Quindi Francesco torna in Toscana Fra l'altro c'è stato altre due volte Comunque se poi mettiamo insieme le varie località A questo punto con Nomadelfia e all'Oppiano diventano cinque Le località toscane visitate dal Papa Ricordiamo Prato, Firenze, Barbiana E appunto il prossimo 10 maggio Questi due appuntamenti, queste due realtà molto particolari della Toscana Ritroveremo ovviamente la notizia sviluppata nelle pagine interne Quindi non solo in prima pagina E poi la ritroveremo ovviamente anche nelle diocesi interessate In questo caso la diocesi di Grosseto per quanto riguarda Nomadelfia E la diocesi di Fiesole per quanto riguarda Loppiano Andiamo avanti nelle pagine del giornale Si parla di sport ma in un senso particolare Si parla delle attività del CSI Il centro sportivo italiano che gestisce tanti oratori Tanti centri sportivi anche in Toscana Legati spesso alle parrocchie L'obiettivo è quello di avere un circolo in ogni parrocchia Questo è lo statuto del CSI Perché lo sport possa diventare un'attività Che contribuisce alla crescita umana dei nostri giovani L'intervista Roberto Posarelli Che è responsabile regionale dell'area territorio Parla anche della Junior Team Cup L'attività che coinvolge gli oratori Porta il calcio delle parrocchie per così dire Negli stadi legati appunto alla Serie A Quindi un'attività che sta dando grande risalto al CSI Ma poi c'è anche l'attività che si svolge durante tutto l'anno Appunto un'attività educativa collegata agli oratori parrocchiali Tra gli argomenti in primo piano anche questa settimana Ormai lo stiamo facendo da alcuni numeri Anche se questa settimana prende in via Diciamo il vero e proprio dossier Verso il voto Verso le elezioni del 4 marzo Si presentano tutti i candidati in Toscana Si spiega anche come sono composti adesso i nuovi collegi E si parla soprattutto della scheda unica senza preferenza Infatti ci sono delle novità abbastanza importanti Per quanto riguarda proprio le schede elettorali Allora cerchiamo di spiegarlo ai lettori Anche attraverso la proposta di alcuni elementi grafici Tra cui proprio il facsimile della scheda Quindi insomma una funzione in questo senso didattica Di cui ci facciamo carico proprio per aiutare i nostri lettori Al prossimo voto di marzo Domenica 11 febbraio si celebra la giornata mondiale del malato E su Toscana Oggi ne parliamo con una intervista Suor Costanza Galli Che è una suora ma anche un medico primario di oncologia a Livorno Dove gestisce l'ospis, l'unità di curie palliative L'unità dove arrivano tante persone nell'ultimo stadio della malattia E tanti dunque i temi di cui abbiamo parlato Con suor Costanza In particolare la difficoltà di affrontare Di stare vicino a gente che soffre E anche le relazioni con i familiari di queste persone E anche la possibilità che qualcuno di loro chieda di farla finita Chieda l'eutanasia Richieste che arrivano Dice Suor Costanza Ma spiega spesso queste richieste Nascono soprattutto dalla disperazione Dovute al fatto Dice che il malato si sente un peso per la sua famiglia Un peso per la sua comunità di appartenenza Si sente non più utile a nulla Perché non più capace di funzionare Secondo certi standard Per ognuna di queste cose Dice Suor Costanza C'è una risposta portata di mano Prima di arrivare a togliere la vita a una persona E andiamo subito sulle pagine di Ecclesia La nostra parte di informazione religiosa Che si apre come sempre Con la rubrica risponde il teologo Questa volta si affronta il problema di misericordia e giustizia Come si conciliano questi due volti di Dio Ma poi nelle pagine interne di Ecclesia Si ritorna sulla notizia di apertura della prima pagina Si ritorna cioè su questo fatto Della visita di Papa Francesco in Toscana Giovedì 10 maggio a Nomadelfia e il Loppiano Sono due realtà molto particolari presenti in Toscana Sono legate a due personaggi importanti Don Zeno Saltini per quanto riguarda la fondazione di Nomadelfia E Chiara Lubix per quanto riguarda invece Loppiano Sono due realtà in qualche modo che dimostrano come Il Vangelo sia possibile viverlo anche in modo radicale Del resto Nomadelfia è una comunità particolare Dove si vive come le prime comunità cristiane Dove tutto è messo in comune Non esiste moneta Esistono famiglie che accolgono anche in adozione figli Ci sono madri adottive appunto che accolgono tanti figli Si calcola che siano stati più di 5.000 ormai i figli accolti a Nomadelfia Nomadelfia dove la fraternità è legge Questo è lo slogan ma è anche la sostanza e il contenuto di questa realtà di Nomadelfia Dicevamo invece della cittadella dei Focolari Loppiano dove qui c'è una dimensione più internazionale Dove però si mettono insieme persone di varie parti del mondo A dimostrare anche qui che le relazioni, che i rapporti, che la pace In qualche modo è possibile E poi c'è anche un livello decisamente culturale Che questa cittadella propone Perché è legata all'oppiano anche una facoltà La facoltà Sofia Poi c'è anche una ricerca sul fronte economico L'economia di comunione con il polo Leonello Bonfanti Insomma due realtà molto significative Legate a due personaggi altrettanto significativi Il Papa ci ha abituato in queste sue brevi visite Tipo quella di Barbiana ci ha in qualche modo abituato A rendere omaggio a queste figure che sono indubbiamente esempi di vita evangelica autentica Sulle pagine di Toscana Oggi e di questa settimana C'è anche il comunicato finale dei lavori della conferenza episcopale toscana Che si è riunita nei giorni scorsi all'erimo di Lecceto Vicino a Firenze Tra i temi affrontati è anche quello delle elezioni Del voto del prossimo 4 marzo Con tre inviti lanciati dai vescovi toscani Il primo è quello a informarsi con attenzione Nell'epoca delle cosiddette fake news Il secondo invito è a discernere tra le varie proposte In un'ottica di ricerca sincera del bene comune E qui il comunicato richiama le parole del cardinale Gualtiero Bassetti Che ha parlato di questi argomenti nella sua prolusione al Consiglio Permanente della CEI E poi il terzo invito è quello ad andare a votare Vincendo la tentazione dell'astenzionismo e della disaffezione Questo dunque il richiamo che i vescovi fanno sul tema elettorale Altri poi i temi affrontati La preparazione al sacerdozio con l'istituzione di un anno propedeutico all'ingresso in seminario Un anno in cui in ogni diocesi si farà una verifica dal punto di vista umana e spirituale Prima dell'ingresso, vero e proprio in seminario E poi ancora vari altri argomenti Come quello dei giovani con il cammino Che i giovani toscani faranno in agosto Per prepararsi poi per raggiungere Roma Dove ci sarà l'incontro dei giovani italiani con Papa Francesco E come sempre dopo le pagine di informazione religiosa Le pagine culturali che vanno sotto il titolo di inventario Che si aprono questa settimana con una rubrica che è a cadenza mensile Ed è la rubrica parole di Sergio Valsania Questa volta la parola affrontata dal collaboratore Toscano Oggi è perdono il lubrificante della vita quotidiana E poi come sempre le consuete rubriche Tra cui il cinema e la televisione A proposito di televisione si parla di un anniversario Che poi ritroveremo anche ovviamente nelle pagine locali Della diocesi interessata La diocesi interessata è quella di Prato A Prato si sono festeggiati i 40 anni di TV Prato Che è la televisione proprio della diocesi Una bella realtà che ha un'incidenza importante sul territorio Ma come dicevo ritroveremo poi nelle pagine locali E proprio su quelle andiamo partendo come sempre Dalla prima pagina della voce di Arezzo Cortona a Sansepolcro Qui si parla della luce ritrovata nel Duomo di Arezzo Sono state riaperte infatti le finestre circolari Nella parete nord-orientale della cattedrale Dunque nuova luce, luce naturale che entra in Duomo E in Duomo ci sarà anche fra poco La festa della Madonna del Conforto Festa molto amata in tutto il territorio aretino La preparazione, tutte le date della preparazione La festa che poi sarà il 15 di febbraio Ogni giorno ci sarà anche la diretta su TSD Per seguire da vicino le celebrazioni Questi momenti spirituali E da Arezzo ci spostiamo a Fiesole Lo abbiamo in qualche modo preannunciato Siamo sulla prima pagina della parola Fiesole è una delle due diocesi Interessate alla visita del Papa Proprio perché è come detto Loppiano è nel territorio fiesolano Quindi si ricorda questo fatto Che il Papa visiterà Loppiano E si sottolinea che è anche la prima volta Che un pontefice si reca a visitare la Mariapoli Il Papa Loppiano Gioia condivisa nel mondo Proprio questo è il titolo Ma proprio per dare quel senso Che dicevamo Della internazionalità di questo luogo E quindi il Papa che va a Loppiano Si riflette in tutti i luoghi Dove la presenza del movimento dei focolari È radicata ed effettivamente È radicata in tante parti del mondo Sull'Osservatore Toscano Edizione della Diocesi di Firenze Troviamo una storia La storia di Lucia Lucia Poggiali Dalla scuola di Danza All'Ordo Virginum Lucia Poggiali è maestra di Danza Alla sua scuola che si chiama Stella Danzante E questo sabato riceve La consacrazione Entra appunto nell'Ordo Virginum Questa realtà di donne consacrate Che vivono però laicamente nel mondo La loro vocazione La loro scelta di testimonianza cristiana E per Lucia Poggiali Appunto anche tutto questo Sarà vissuto attraverso la Danza La Danza proprio come espressione Di gioia e di lode Troviamo sulla prima pagina Dell'Osservatore Toscano Anche il richiamo alla giornata del malato Con la messa nella Basilica di San Lorenzo Domenica 11 febbraio Con i malati e gli operatori sanitari Andiamo avanti nello sfogliare Le edizioni locali Arriviamo a Grosseto E anche qui come anticipato Ovviamente grande evidenza Questo appuntamento del 10 maggio Il Papa Pellegrino a Nomadelfia Questa realtà che ha uno stretto collegamento Con la diocesi di Grosseto Mentre a Fiesole E' la prima volta che un Papa Si recherà all'Oppiano Nel caso di Nomadelfia Invece c'è già stato un Papa E tutti ricordano con affetto La visita di Papa Giovanni Paolo II Ormai San Giovanni Paolo II Che si recò esattamente 29 anni fa In visita proprio alla cittadella di Nomadelfia Su Lucca 7 si parla dei progetti missionari Si parla già della Quaresima Di quello che verrà realizzato Con le offerte raccolte durante la Quaresima Diversi progetti proposti dal centro missionario diocesano Si va da Bangkok Al Rwanda Al Burkina Faso Alla diocesi di Rio Brianco In Brasile Tanti dunque i missionari Ducchesi presenti nel mondo E tante le forme I progetti che la diocesi propone Per aiutarli Dalle pagine della Maremma all'Elba Siamo in diocesi di Massa Marittima Piombino Ancora gli echi della giornata Della vita consacrata Con la concelebrazione Presieduta dal vescovo Carlo Ciattini A Massa Marittima E poi tanti richiami alle notizie interne Ne segnaliamo uno Che è piuttosto curioso Se vogliamo a Pianosa Quest'isola che ormai È praticamente disabitata È stata un'isola che ha ospitato Per tanto tempo un carcere Pianosa che è in diocesi Di Massa Marittima Piombino Così come l'isola d'Elba Così come altre isole Nascerà a Pianosa Il Museo delle Scienze E poi a proposito dell'Elba Qui invece nascerà Il Santuario delle Farfalle Due notizie abbastanza curiose Che troviamo questa settimana Sulla prima pagina Dalla Maremma all'Elba Su Vita Nova Diocesi di Pisa Si torna a parlare Della Quaresima Dei progetti di carità Per la Quaresima Scoprire pozzi nel deserto Questo è il riferimento Il tempo della Quaresima Come tempo proprizio Per riscoprire L'essenziale della nostra fede Ancora avanti Siamo in diocesi Di Pitigliano, Sovana, Orbetello Le pagine di confronto Si parla della Candelora Questa festa tradizionalmente Definita della Candelora In realtà è la presentazione Di Gesù al Tempio Perseveranti nel segno della speranza Questo è il messaggio Che arriva dal Vescovo Di Pitigliano, Sovana, Orbetello Sull'Araldo Poliziano Edizione della Diocesi Di Montepulciano Chiusi e Pienza Si parla di tutti per tutti Il concorso che coinvolge Tutte le parrocchie d'Italia E le parrocchie sono invitate A proporre i loro progetti Di utilità sociale Una gara di solidarietà Dunque in cui I migliori progetti Saranno premiati Prato, la voce di Prato Dicevamo tra gli altri richiami Proprio questa grande festa Che si è svolta Al Teatro Metastasio Per i 40 anni di TV Prato Ripeto, questa televisione È particolarmente radicata Nel territorio pratese Di fatto anche se appartiene Alla Diocesi Però è sentita da tutti Come la televisione della città Questo è molto importante Però si parla in apertura Di un altro argomento Si parla di missioni In questo caso si parla di Ecuador Aiutiamo i nostri missionari Questo è l'appello che viene Dal Vescovo Franco Agostinelli In Ecuador ci sono Tre sacerdoti diocesani Della Diocesi di Prato E le Suore Domenicane di Iolo Di Iolo che è una località Nei pressi di Prato Dove ha sede proprio il monastero Delle Suore Domenicane Radicati nel Vangelo Questo è il titolo che troviamo Sulla Domenica Edizione della Diocesi di San Mignato Si parla delle religiose E dei religiosi presenti in diocesi Si svolta in cattedrale La celebrazione per la giornata Per la vita consacrata Dunque la scelta di vita Di queste persone Appunto di essere radicati Nel Vangelo Siena Colle Valdelsa Montalcino Troviamo in apertura Di pagina La notizia circa Anche qui la vita consacrata Quindi ancora si fa riferimento Alle celebrazioni Per la vita consacrata In questo caso dice L'arcivescovo E' un esempio per i giovani Arcivescovo Vion Cristiani Che ribadisce Dobbiamo essere chiesa autentica Andiamo sulla voce Edizione della Diocesi di Valdinievole E qui invece andiamo Dalla vita consacrata Dai conventi e dai monasteri Ci spostiamo in discoteca Perché proprio in una discoteca La Diocesi ha organizzato Una serie di incontri Per parlare dei giovani E per parlare ai giovani Il primo di questi incontri Si è svolto lunedì 5 febbraio Si è svolto nel pomeriggio In orario di chiusura Della discoteca Diciamo non c'era la musica Ma c'erano comunque tante persone Tantissime persone Anche tanti giovani Venuti proprio per ascoltare Questo esempio di chiesa in uscita Come si suol dire Il primo di tre incontri Poi il ciclo riprenderà Il 18 febbraio L'ultima nostra edizione La penultima Anzi è Vita a Puana Dove si trova un riferimento Alla Quaresima Tempo liturgico della Quaresima Con lo sguardo al crocifisso Questo è quello che leggiamo Sulla prima pagina di Vita a Puana E chiudiamo invece con L'araldo di Volterra Sì qui si parla dei ragazzi Della diocesi pronti a costruire La pace Si parla dei ragazzi Di azione cattolica Che come un po' in tutta la Toscana Hanno svolto la loro giornata Del mese della pace Appunto a gennaio Il mese che l'azione cattolica Dedica generalmente a questo tema I ragazzi della diocesi di Volterra Si sono riuniti a Cecina Erano davvero in tanti E per una giornata appunto Dedicata alla pace E questa era appunto La nostra ultima notizia Come sempre per tutti gli aggiornamenti Nel corso della settimana Chi vuole lo rimandiamo Al nostro sito internet www.toscanaoggi.it Con aggiornamenti quotidiani Su tutte le realtà diocesane E non solo per quanto riguarda La Toscana Per tornare a sfogliare insieme Invece il giornale cartaceo L'appuntamento come sempre Alla prossima settimana E a tutti Un grazie per l'attenzione Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima